La prima cosa è completamente bagnata, però la roba dentro è asciutta. No, a me non si è bagnata tanto, perché poi è arrivata una certa... L'ho messa sopra il... Noi ci dobbiamo asciugare i costumi. Gabriele, dobbiamo andare al supermercato e segnalare qui. E qui ti ha suggerato? Eh, che lì pure ce l'ha suggerato, facciamo questi riscaldi. Ma non viene, scusi. Eh? Non viene anche una cosa. Non mi fa questa foto, lo dobbiamo tagliare qui. La ticceria è tutta casa, insomma. Ma si chiama la testa al mezzo. No, tutta la foto. Non mi sapevo che la deve fare. Non mi sapevo che la deve fare. Non va. Una notte visto. È questa di due le posto. È questa di due, le posto. De dieci, per me lo basta più. Perché quando un paraccio... Non posso vedere. Che sento, qua. Grazie.